Ti senti sola, lo so. Quei lividi sulla pelle non puoi continuare a coprirli. Le scuse che inventi non reggeranno per sempre. Non puoi continuare a proteggere chi invece abusa di te. Reagisci, urla, scappa. Proteggi te stessa e chi ti sta vicino, i tuoi figli. Il primo passo per amare se stesse è farsi aiutare. La violenza fisica è un reato. Denuncia chi ti fa del male. Io Lotto è l'iniziativa promossa dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Napoli e finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto anche solo con un consiglio. Fatti ascoltare, chiama il 1522 o scrivici in chat.